ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video oggi parliamo di 8 vantaggi per la salute del kombucha sostenuti da studi scientifici o quasi vediamo un po il primo effetto potenziale della kombucha è quello di essere una possibile fonte di probiotici si ritiene che la kombucha risalga alla cina sia poi stata trasferita alla russia che l'ha diciamo adottata come seconda patria e da lì poi la kombucha si è diffusa in tutto l'occidente la sua preparazione avviene attraverso l'utilizzo di un tè zuccherato quindi tè zucchero ed una cultura di microrganismi cosiddetta cultura simbiotica che serve appunto a fermentare questo tè zuccherato questa complessa collettività di lieviti e batteri fermenta il nostro kombucha e lo rende appunto la bevanda che tutti oramai conosciamo sebbene non vi siano ancora prove scientifiche concrete sugli effetti probiotici del kombucha possiamo però parlare sicuramente del fatto è stato evidenziato che il kombucha contiene comunque microrganismi potenzialmente probiotici verso il nostro organismo lieviti batteri che hanno un possono avere un significativo effetto sulla nostra salute come effetto sull'aiuto alla nostra digestione la riduzione dell'infiammazione oppure la perdita di peso quando parliamo di questi effetti sul nostro organismo ripeto parliamo di possibili effetti perché ci tengo a sottolineare che gli studi condotti fino ad ora e che hanno evidenziato effetti di questo tipo sono stati compiuti solo su animali e quindi dobbiamo sempre parlare di possibili effetti del kombucha quindi il primo effetto è quello probiotico abbiamo detto che il kombucha contiene microrganismi probiotici e quindi potrebbe avere effetti positivi sul nostro organismo il secondo effetto importante è quello relativo ai benefici che il kombucha ci dà provenienti direttamente dalle erbe che abbiamo utilizzato per produrre in questo caso parliamo di tè nero o di tè verde che sono i due tipi di tè principalmente utilizzati per la produzione del kombucha oramai il tè verde è universalmente riconosciuto come una delle bevande uno degli infusi più salutari questo effettivamente gli studi condotti anche sugli esseri umani hanno dimostrato diverse proprietà benefiche il kombucha prodotto da tè verde o da tè nero contiene la una quantità degli stessi composti vegetali contenuti dal tè di partenza e verosimilmente dovrebbe condividere anche con il kombucha gli effetti benefici appunto che queste bevande non fermentate cioè gli infusi di tè nero e di tè verde hanno sul nostro organismo si ritiene infatti che la fermentazione del kombucha aiuti a rendere questi effetti ancora più marcati ma ripeto su questo non ci sono al momento evidenze scientifiche possiamo però supporre che questo possa accadere ad esempio è dimostrato che il tè verde accelera il dispendio calorico riduce il grasso addominale il grasso in generale accumulato all'interno del nostro organismo e apporta diversi benefici alla nostra salute quindi l'idea è che si spera che questi benefici attribuiti scientificamente provati al tè verde si possano un giorno attraverso appunto gli studi trasferire anche al kombucha un altro aspetto dei benefici del kombucha riguarda il contenuto di antiossidanti sì perché all'interno del kombucha noi troviamo gli stessi antiossidanti di partenza che troviamo appunto all'interno del tè del tè nero o del tè verde e questi antiossidanti ormai è stato assolutamente dimostrato che hanno reali benefici per il nostro organismo e si pensa che questi antiossidanti assunti attraverso la kombucha quindi fermentati attraverso la kombucha possano avere un particolare effetto maggiorato sul nostro organismo su questo dobbiamo dire che studi compiuti su roditori hanno dimostrato nei fatti che il consumo abituale di kombucha riduce la presenza di sostanze tossiche all'interno del fegato quindi sostanzialmente ripulisce il fegato e questo prospetta una promettente linea di ricerca appunto sugli effetti benefici che il kombucha potrebbe avere sul fegato degli esseri umani un'altra funzione importante riconosciuta su studi condotti su animali del kombucha è l'effetto battericida questo dovuto a diverse sostanze contenute nel kombucha come ad esempio l'acido acetico ma anche come alle batteriocine prodotti dai microrganismi all'interno del kombucha ormai questo è abbastanza assodato i microrganismi per difendersi durante i loro processi vitali producono delle sostanze che si chiamano batteriocine queste batteriocine vanno a disintegrare ad uccidere a eliminare eventuali competitori e il kombucha i microrganismi che generano il kombucha anche loro riescano a produrre questo genere di batteriocine che vengono poi trasferite all'interno della bevanda e che noi assumiamo possiamo quindi assolutamente confermare il fatto che assumendo kombucha noi assumiamo batteriocine e l'effetto quindi di queste batteriocine nel nostro organismo potrebbe essere quello di stimolare una reazione contro microrganismi potenzialmente patogeni all'interno del nostro organismo le batteriocine in particolari hanno effetto non solo contro i microrganismi batteri o i lieviti ma hanno effetti anche contro i virus e si può quindi immaginare che una riduzione di microrganismi patogeni come batteri lieviti e virus che non sono dei microrganismi ecco può avere un reale effetto benefico sul nostro organismo un altro effetto benefico attribuito al kombucha ricordo sempre grazie a studi condotti su animali è quello della riduzione o comunque della modulazione del colesterolo buono e cattivo hdl e ldl all'interno del nostro organismo studi effettuati su ratti hanno dimostrato che l'assunzione del kombucha modula la presenza di colesterolo cattivo e di colesterolo buono all'interno dell'organismo degli animali questi roditori quindi trattati in questo studio hanno dimostrato una migliore ed una più efficiente risposta al rischio di malattie cardiache presentando quindi una protezione verso appunto questo rischio abbiamo poi un possibile effetto sulla gestione degli zuccheri all'interno del sangue dovuta appunto l'assunzione della kombucha anche qui parliamo di studi condotti su roditori che hanno dimostrato di migliorare la gestione degli zuccheri all'interno del sangue appunto di questi animali ed è in questo ambito che troviamo l'unico studio condotto su esseri umani relativo appunto al kombucha ovvero quanto l'assunzione di questa bevanda riesca ad avere effetti sulla modulazione degli zuccheri all'interno del sangue e questo studio condotto su ben 300.000 persone in effetti ha dimostrato un calo del livello di incidenza del 18 per cento sulle persone che assumevano kombucha del rischio di contrarre il diabete quindi questo studio ha dimostrato effettivamente benefici della kombucha nella gestione del glucosio ematico ma ovviamente uno studio non può essere una pietra tombale su questo tema e sono necessari ulteriori approfondimenti per capire se questo si conferma intanto e poi in che modo anche si conferma ci sono poi i potenziali contributi del kombucha nella prevenzione del cancro qua attenzione parliamo sempre di studi condotti in provetta oppure su animali ma soprattutto sono studi condotti in provetta direttamente su cellule tumorali quindi parliamo a questo livello quindi studi condotti su culture cellulari hanno proprio evidenziato che gli antiossidanti e i polifenoli contenuti all'interno del kombucha hanno un effetto inibente verso la crescita delle cellule tumorali tuttavia il meccanismo attraverso il quale i polifenoli e gli antiossidanti agiscono in questo senso non è chiaro e quindi sono necessari ulteriori studi per confermare questa cosa qua però è sicuramente una come dire una finestra promettente sul futuro in ultimo dobbiamo dire che il kombucha a tutti può avere tutti questi bellissimi effetti benefici sul nostro organismo solo se preparato bene non dobbiamo dimenticare che essendo una preparazione casalinga si può comunque andare incontro ad errori nella produzione ed in questo senso lì vi posso aiutare con i miei corsi con la mia formazione vi ricordo che potete frequentare uno dei miei corsi potete frequentare uno dei miei corsi anche online che tengo continuamente sulle mie pagine o in giro per l'italia dove potete appunto imparare in maniera corretta la gestione della kombucha una gestione salutare una gestione anche che risulti conveniente per le vostre tasche piuttosto che acquistare questi prodotti nei negozi dove tra l'altro ce li fanno pagare a prezzo abbastanza caro non bisogna poi dimenticare il fatto che i benefici eventuali del kombucha come quelli dei cibi fermentati sono sempre legati alla reazione individuale quindi mi raccomando testate prima un po alla volta assaggiate un po di kombucha alla volta e se non avete effetti particolari o addirittura sentite qualche piccolo beneficio bene continuate nell'assunzione ma mi raccomando non esagerate perché il nostro organismo è complesso e intervenire massicciamente con alimenti potenti come possono essere gli alimenti fermentati potrebbe anche generare qualche tipo di scompenso e su questo rivolgetevi ad un dietista ad un dietologo ad un nutrizionista ad un medico a qualcuno che mi può dare consigli dedicati su questo tema vi ricordo che io non ho nessuna di queste competenze questi sono solo video informativi e se volete risposte su queste tematiche ecco questo non è il canale giusto per averle se invece volete imparare a fare gli alimenti fermentati allora sì benvenuti fatemi pure tutte le domande che volete rispondo sempre molto volentieri bene se questo video ti è piaciuto metti un like al video segui il canale e sicuramente contribuirai a sostenere a sostenere il mio lavoro e che dire ti aspetto in un corso dal vivo oppure in un corso online o ti aspetto con una domanda sotto questo video spero che ti sia piaciuto condividilo e noi ci vediamo prossimamente in un nuovo video ciao